buongiorno ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video nuovo video all o la tema matrimonio cartopazzoso matrimoniale diciamo così allora si è sposato mio fratello e quindi gli ho preparato una surprise box un explosion box a dicembre si sposa mia cugina e quindi volevo preparare un altro biglietto e quindi mi sono organizzato e ho comprato un po di cosa tema matrimonio per crearle una card di auguri un po particolare un po carina e ho comprato anche delle cose per fare delle prove perché ho dei progetti in mente a lungo termine per il mio di matrimonio vorrei crearmi alcune cose da sola tra cui il guestbook e quindi ho iniziato a comprare alcune cosine che ho visto che mi hanno attirato hanno attirato la mia attenzione e per un futuro diciamo ok per provarle per vedere come sono per vedere se mi veniva qualche idea a riguardo vi faccio vedere cosa ho acquistato più o meno so anche alcuni prezzi ho comprato tutto in un negozio che si chiama valcolor che è un negozio che c'è qui a mi sembra che sia già sarre questo vicino ad aosta comunque un paese vicino ad aosta proprio alle porte di aosta allora cominciamo non ho comprato tutto tutto da loro ho comprato questo pizzo della stamperia vedete questo l'ho pagato 2 euro e 40 anzi no il prezzo era 2 euro e 40 è un bel pizzo è 30x30 ed è bianco poi ho comprato questo scusatemi ok questo è costato 270 lo apriamo e questo è carinissimo mi ha attirato subito l'attenzione questo è facilmente riproduttibile penso però non è nelle mie possibilità di riprodurre una roba del genere comunque sono le sagome dello sposo e della sposa e hanno dietro il cerchietto di biadesivo spessorato leggermente spessorato ok poi ho comprato un rotolo di biadesivo gommato questo è costato 2 euro e 20 è sempre della stamperia biadesivo gommato spessorato leggermente non dice l'altezza questo l'ho già aperto perché ne ho usato già un po' comunque è fatto così poi ho acquistato alcuni timbri allora ho comprato questi due clear stamp piccoli della stamperia questo molto carino questo l'ho pagato 1 euro 80 poi ho comprato questo a forma di cuore tutto con il pizzo e anche questo 1,75 e poi ho comprato l'alfabeto c'è alfabeto maiuscolo minuscolo e i numeri e con anche alcuni simboli simboli diciamo la punteggiatura punto virgola interrogativo ed esclamativo questo l'ho pagato 11 costava 11 euro 11,30 molto carino questo mi sarà utile e poi infine in quel negozio ho comprato questo set di carte della stamperia wedding sono double fast sono 30,5 x 30,5 da 170 grammi costavano 10 euro non so se si vede 10,70 euro e le carte che ci sono dentro sono queste così e questa l'ultima questa molto molto carino molto bello grande ci sono delle belle immagini magari ve la faccio vedere qua così ok tipo queste sono belle grosse queste avrebbero delle piccole cartoline questo 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 puoi scrivere all'interno della card il il messaggio di auguri piuttosto che questa e alcuni si ripetono questo questo con la torta ok ed infine ho acquistato in un negozietto non lì alla Valcolor in un altro negozio alcuni abbellimenti ho comprato questi che non mi sanno tanto di matrimonio ma mi piacevano erano carini e penso che ci li terrò o per San Valentino non lo so questi mi sembra che li ho pagati di un euro o un euro e cinquanta questi qui con le pietruzze e poi ho comprato dei fiori così e basta questo era il mio haul a tema matrimonio se avete qualche idea da darmi per realizzare la card per il matrimonio di mia cugina non esitate anzi scrivetemelo qua sotto se volete linkarmi qualche video tutta area che posso seguire o volete linkarmi le vostre pagine facebook dove ci sono i vostri lavori fatelo pure che a me fa solo piacere perché così vedo cosa realizzate magari riesco a prendere spunto e quindi spero che il video vi sia piaciuto vi mando un abbraccio e un bacio e alla prossima ciao